E bella a tutti ragazzi, sono Zobo, Tassinino Basso, Dreni24 e oggi siamo tornati in un nuovissimo video. Oggi non c'è la webcam perché c'ho la faccia di un cavallo arrostito con i denti, i marci, forse. Vabbè, siamo qua con Carl e non è lui che dobbiamo vedere perché è qualcun altro. C'è, come avete notato negli altri video, c'è Chobo a grado 15, se vado più giù, più giù, più giù, c'è Frank a 299 coppe. Ce ne manca una per arrivare alle 15, il grado 15 è a 300 coppe. Quindi mettiamo Frank, mettiamo Foodbrawl e iniziamo. E poi per due motivi oggi non c'è la webcam. Prima per la mia faccia e secondo perché qua di fianco c'è qualcosa che dovrà esserci in un altro video, che vi faccio sentire un rumore. Alcuni l'avranno già capito, però vi dico solo che è un portachiavi molto bello, che si può anche usare. L'abbiamo già fatto, benissimo. Regà, ma avete guardato la chitarra di Poccio che era là di fronte alla porta? Vabbè, regà, guarda, la vedete? La vedete qua la chitarra? Poccio è andata in vacanza. E poi la vittoria. È stata assicurata. Quindi mi ero pure distratto. Non sapevo perché, l'avevo fatto per la vittoria. Regà, ecco. Grado 15 per Frank. 307 coppe, 200 punti stellari. E arriviamo alle 1200 punti stellari. Eccoli qua. E poi 307 coppe con Frank. Il mio secondo grado 15, regà. Due grado 15. E poi oggi dovremmo apportare Rosa e Stecca. Stecca al grado 12. E Rosa al grado 13. Se ce la facciamo. Però forse tutte e due. No, però. Forse Stecca. Però regà. No, e poi dovremmo, il prossimo video dovremmo portare a grado 12 anche Shelly. Penso che non lo uso da un bot. Crow nel prossimo video in cui porteremo Shelly al grado 12. Porteremo anche Corvo. Se ce la facciamo. Se ce la faremo. A un buon punto del grado 13. Penso che adesso è il grado 12. 200 precedenti. Quindi c'è ancora un batto di tempo. Oggi dovevamo portare Frank al grado 15. E portare questi bellissimi due brawler. Una al grado 11. Una al grado 12. E una al grado 13. E io direi di potenziare rosa. A livello 5. E andare in un footbrawl. Dai. Oggi mi piace footbrawl. Quindi andiamo con footbrawl. Possiamo iniziare. Perché se la gava mi irrappia. E la madre. C'era prima. Off camera. Io con Frank. Di Bono. Ero P. O P. Ve lo dico. Ulti su ulti facevo. Ero troppo forte. Grande Frank che sprechi ulti. Ulti a manette. Voglio avere io la ulti. Venite. Un colpo. Voglio darvi un colpo. Perché io ho la ulti. Eh. Grazie per la ulti. La ulti la userò. Quando prenderò la palla va. Perché guarda. Frank usa la ulti. Io uso anche la mia ulti. Muoiono tutti. Io mi vado. Vabbè c'è pure quello. Vabbè qua. Boom. Andiamo a segnare. Eh yes. Alleluia. Ci mancano. Ci manca un trofeo. Io me la rigioco. Dai. Oh basta con queste pubblicità. Di Bono. Beh. Io me la sono rigiocata. Ovviamente gli altri due no. Perché sono cattivi. Ah shag. Cattivi. E Bono. Ho paura. No. 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 Violenza contro i minorenni. Uffa. Vabbè. Se segniamo non è più violenza. Però non abbiamo segnato. Quindi violenza. Uffa. Se segnato. Abbiamo. Se. Nia. Do vai. Frank. 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 Frankestein. Po 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 po. Continuiamo. Grande Manuel. Grado. Tredici. Per rosa. Se. Finalmente. Grado tredici. Io non gioco più. Grado tredici. Uff. Ce ne mancano pochissimi per arrivare. Se ce la facciamo. Dopo ci facciamo una cassa. Allora. Adesso dovremo portare a grado d'ordici. Stecca. 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 E poi nel video in cui ho trovato Frank. C'era Stecca e Ropi. Perché non l'ho ancora visto. Lo vado a vedere. Video leggendario. Il mio primo brawler trovato in video. No. No 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 no. Forse era meglio rosa però va bene. Moriteci tutti. Moriteci male. E uno. E due. E tre. E quattro. E uff ha sprecato la Uti. Per niente. riusciamo a finire questa partita grazie perché io avrei anche una vita una vita sociale non solo una vita virtuale quindi alle lui hanno finito di segnare hanno segnato la rega oggi dobbiamo portare stecca al grado 12 se non lo portiamo al 12 io non finisco il video anche se arriva a 24 minuti di video non lo potrei pubblicare chi se ne fotte lo pubblico lo stesso penso che già un video di 24 minuti l'avevo fatto però non l'avevo pubblicato perché non potevo tutti l'ho usata benissimo come non detto ma rega ragazzi abbiamo un problema problema l'ho la snora bel nome forse mi cambierò il nome con gx lol giusto gx lol segna uso la u un famaro guarda quanto la rega laga laga e la madonna arrivato tutto buio rega c'è un vento qua gli scuri sono andati malissimo va bene no vabbè andrò meglio la prossima io però voglio avere questi punti energia per qualcuno rega come avete visto ancora un po e arriviamo da boh boh io ti voglio allora i punti energia chi li diamo chi li diamo c'è è il primo grado se di verlo se io li darei a crow corvo quella più indietro 25 punti a corvo io so che non li trovo mai punti di crow di corvo non so perché mi viene sempre di da crow però va bene tutto 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 allora rega secondo me questo video può finire qua con bull frank e rosa no con bulle frank al grado 15 e rosa grado 13 e tutto e dovrebbe portare anche belgiano grado 9 da me è tutto e ciao gente ciao